no io io raga venite da qua facciamo il perimetro state andando in mezzo ok ma pinga ah uno in fondo ok è morto l'hanno trovato per terra stanno dentro no no giovane non andare da solo raga qua ci dobbiamo muovere insieme aspetta giovane litiamo un po che non abbiamo l'ho fatto nulla no mi hanno craccato merda è sempre passi dentro io sto giù da solo non riesco sento passi da dove stai tu stiamo salendo ora e perché eri giù è perché non li potevo venire mi avevano camperato dov'è? oh dove? c'è l'un altro che è l'ucciso 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 è vero questi li abbiamo solo che non ho scudi io non ho assolutamente solo che abbiamo un botto di soldi potremmo andare allo shop perché? però io sarei andato questi no tornano qua quindi io sarei andato li pò lo shop li abbiamo cagati troppo bravo compra io compro una via e lo butto instant solo che io sto indietro rispetto a voi da non comprare piastre ve le ho lasciate qua ok è una ok ma ho 5 me ne ho lasciate no se me ne dai una di quelle che ci mettiamo 4 e 4 ok body army here vendor here rearmend vendor here rearmend rispondi ho comprato l'uav volete soldi vi comprate roba andiamo a questo a questi tipi io non l'attiverei andiamo a quello shop che ho utilizzato anch'io e lì c'era gente e lì c'era gente e andiamo boh non lo so non mi va molto non portare moving over here andando allo shop forse no no stiamo allontanata già ma non hai silenziato lo vuoi tu? ti è bucciato ti è bucciato ti è bucciato un cod sta arrivando sta arrivando allo shop è andato allo shop ucciso ottima nientà eh come ci arrivo lancio l'uav lancio l'uav lancio l'uav si si stava nemico si io sto cercando e io sto cercando le scale se le trovo arrivo io no io non sto dove stavo tutti lontano beh io sto salendo ma ma uè che palma c'è un labirinto sto cazzo di coso vabbè io sono salito no giuro c'è un altro dietro sta arrivando c'è un altro dietro c'è uno dietro sta arrivando stava entrando da dove? oh grosso dai io ho capito ho capito vabbè scendiamo arrivo te l'ho confermato dov'è l'altro già si è nel camion c'è la sacca ma che cazzo là c'è una sacca studi se volete ma c'è una maschera o una ho una sento pasti eh già ma perché ma perché ha fatto questa vabbè ti va a reanimare al volo ah il culo prenditi la maschera tutte quelle cose là eh sì sì dipingo qua stanno gli schumi giuro gli schumi vabbè camperiamocelo un attimo qua aspettiamo giò vediamo se ritorna se no lo ne lascio questi qua torneranno che ci avevano il loro il loro no 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 non ci so vabbè entriamo dentro entriamoci qua tanto c'è risentiamo vieni qui e ritorna alla front line ma se lo perdono ti va non ci va male buono il lancio gioco in 4 di mali